Sono Emiliano Giovine, avvocato, lavoro nel dipartimento ISG e Legal Impact dello studio legale RP Legalitax, sono direttore scientifico dell'area legal del Cottino Social Impact Campus e membro della facoltà del Master di giuristi di impresa Istud. Le sfide che un professionista legale deve affrontare oggi sono innumerevoli, vanno dalla gestione di un contesto normativo in velocissima evoluzione, alla gestione di dinamiche legate al contesto sociale, ambientale e di mercato che cambiano con rapidissima frequenza. Questo impone ai professionisti del diritto un approccio sempre più trasversale, dinamico e focalizzato non soltanto sulla mera interpretazione della norma, ma sull'interazione con altri attori che popolano il mercato, le aziende, le istituzioni, gli stakeholders, i consumatori. Le sfide sociali e ambientali del nostro tempo impongono agli esperti di diritto di adottare una nuova lente per approcciare qualunque ambito del diritto, una lette che non può prescindere dalla valutazione degli impatti positivi e negativi verso la collettività di ogni attività che viene realizzata dalle aziende, anche attraverso gli strumenti giuridici. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!